estate vento fra i capelli chi li ha e voglia di cabrio convertibile roadster spider insomma di top down le cabrio le hanno perso un po di appeal ultimamente proprio perché alcuni costruttori non ci si dedicano più come una volta ma proprio per questo ci sono tante offerte del passato che adesso sono molto interessanti 5000 euro non sono tanti ma non sono nemmeno pochi se si considerano alcune spese come il passaggio di proprietà oppure cambio gomme piccola manutenzione però è una cifra che ritengo equilibrata se si parla di uno sfizio di una voglia come può essere una spider per l'estate con questo budget ne potete acquistare tantissime ma io oggi con voi ne cito solo tre la prima da considerare ovviamente è la mazda mx5 miata o eunos come fu chiamata la primissima edizione in giappone è la spider più venduta anzi la roadster più venduta al mondo ha superato il milione di esemplari quindi complimentoni con 5.000 euro di budget potete considerare sia la n a la prima serie che la n b dunque la n a è un'auto bellissima secondo me la prima e l'ultima serie sono le mx5 più belle però con questo budget potete affacciarvi solo al 1.6 da 90 o 115 cavalli perché il 1.8 ha raggiunto quotazioni un pochino fuori dalla nostra portata di oggi in alcuni casi si sta avvicinando ai 30 anni di età quindi va verificata con un certo criterio però a livello di fascino e anche di rivalutazione niente da dire se invece il vostro approccio alla mx5 è più divertente cioè cercate un piacere di guida che l'na comunque sa offrire ma con qualcosa in più allora forse l'nb col motore 1.8 da 146 cavalli quindi l'nb fl magari la sport ecco è la risposta che stavate cercando non ne trovate tantissime e i prezzi sono magari da trattare per arrivare a 5.000 euro ma ce la potete fare in generale l'nb comunque è un pochino più utilizzabile 365 giorni all'anno perché si tratta di auto a differenza dell'na spesso con abs clima airbag quindi a livello sicurezza e comfort siamo a un gradino sopra poi la sport come vi dicevo a quel qualcosa in più cambio 6 marcia differenziale auto bloccante e scocca rinforzata e anche un assetto sportivo quindi per chi ricerca quel piacere di guida un pochino più estremo è un'auto eccellente un'ottima base per preparazioni da track day se possibile sia per n a e per n b scegliete un bel colore non banale e se c'è l'art hop tanto meglio seconda auto della lista bmw potrei parlarvi di serie 3 ma oggi consideriamo due posti secchi quindi z3 un'auto dal fascino estetico secondo me senza tempo bellissima quando è nata è ancora bella oggi e sarà molto molto intrigante anche domani quindi vi dovete un pochino affrettare sì perché a 5.000 euro per una bella z3 cominciano a essere un po pochi anche nella motorizzazione magari meno idonea diciamo così cioè il 1.800 benzina 4 cilindri da 118 cavalli se riuscite a trovare a parte i 6 cilindri che sono ovviamente fuori budget considerate che il 2008 arriva anche a 12 15 mila euro a salire se trovate appunto il 1.900 benzina da 140 cavalli ci siamo magari con una bella colorazione esempio quella usata da james bond in golden eye avete fatto bingo ma anche rossa gialla verde blu insomma la z3 è un'auto che avrà tanto fascino da spendere anche in futuro quindi fateci un pensierino e al terzo posto last but not least un'auto fuori dalla lista fuori dal tempo fuori un'auto secondo me fenomenale la dayatsu coper che è nata come kikari in giappone nel 2001 2002 se non erro e piano piano è arrivata anche in europa in italia all'inizio con la guida destra e col motore 660 turbo se non erro e solo in un secondo momento è arrivato il 1300 da 87 cavalli che è quello un pochino più diffuso è una macchina compatissima che ha il pregio di avere il tetto rigido retrattile quindi se la parcheggiate fuori non avete il box se per lungo tempo sta all'aperto ci sono meno pericoli diciamo così so benissimo di non avere considerato tutte le coupé cabriolet spider roadster a due posti secchi che possono entrare nei 5000 euro come per esempio la mercedes slk ma se domandi dovessi suggerire a voi a me stesso a un amico con quel budget quale convertibile acquistare le prime tre della lista sarebbero sicuramente le mie favorite però mancano le vostre quindi scrivetele nei commenti e parliamo insieme